Seduta del 6 giugno Lutto nazionale, un minuto di silenzio Anche il Consiglio regionale del Piemonte ha aderito lunedì 4 giugno con un momento di riflessione di cordoglio alla giornata di lutto nazionale istituita dal Consiglio dei Ministri per le vittime del terremoto che ha sconvolto l'Emilia Romagna. Alle 12, nel cortile di Palazzo Lascaris, il presidente Valerio Cattaneo, presente all'ufficio di presidenza e numerosi consiglieri dipendenti, ha svolto la commemorazione e ha invitato i presenti a osservare un minuto di silenzio. Benemerito della fondazione Cavour Il 6 giugno a Santena si è commemorato Camillo Benso Conte di Cavour nel 151esimo della morte e 160esimo anniversario della sua nomina a primo ministro del Regno di Sardegna. La fondazione intitolata allo statista ha consegnato al Consiglio regionale il diploma di socio e benemerito della fondazione Cavour e i presidenti Valerio Cattaneo e Nerionesi hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per promuovere e valorizzare la figura di Cavour. Vittorio Marchis, torinese, fotografo È dedicata a Vittorio Marchis, torinese, fotografo e escursionista 100 anni fa. La mostra è inaugurata il 6 giugno alla Biblioteca della Regione di Via Confienza 14 a Torino. La rassegna, visibile fino al 28 agosto, propone una serie di scatti fotografici realizzati da Marchis, che coniugò la passione per la montagna con le tecniche della ripresa fotografica, sperimentando agli inizi del Novecento la fotografia a colori. Verso la libertà dei popoli All'ufficio in relazione con il pubblico del Consiglio regionale, del 4 giugno al 4 luglio, la mostra percorsi pittorici nel viaggio verso la libertà dei popoli. Alla presentazione dell'allestimento, curato dal comune di Torre Canavese, sono intervenuti il presidente dell'Associazione per il Tibet e i diritti umani del Consiglio regionale del Piemonte, Gian Piero Leo, il sindaco di Torre Canavese, Pietro Bertinetto, e il critico d'arte, Marco Datrino. Alla presentazione dell'Associazione per il vostro